Attivate le procedure per l'erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, a comunicarlo con una circolare l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'istruzione delle università e del diritto allo studio. Potranno soffrire del beneficio gli studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti ad un nucleo familiare con i sei in corso di validità pari o inferiore a 10.632,94 euro. Chi non è in possesso dell'attestazione dovrà inserire il numero di protocollo e la data di presentazione DSU, così lente potrà in un secondo momento attraverso l'Inps ottenere l'attestazione necessaria. Il ruolo dei comuni è quello di affiggere una copia della circolare all'albo e trasmetterla alle scuole interessate presenti nel territorio, comunicare entro il 24 febbraio 2023 inoltre al Dipartimento regionale il numero dei beneficiari suddivisi per prima, seconda e terza classe delle vecchie medie e prima, seconda, terza, quarta e quinta delle superiori. Le istanze invece dovranno essere presentate entro il 14 ottobre di quest'anno, ma tra la documentazione richiesta non è prevista quella di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo. Saranno gli stessi beneficiari a doverne conservare però la copia per 5 anni, così da poterle esibire su eventuale richiesta dell'amministrazione. Le scuole dovranno ricevere le istanze e trasmetterle ai comuni entro il 18 novembre. Infine, una volta che il Dipartimento, in base al numero dei beneficiari, determinerà l'importo, accrediterà le somme ai comuni, che dovranno poi erogarlo o direttamente agli interessati o tramite buoni libro. Nel caso in cui dovessero rimanere delle somme non utilizzate, il Comune dovrà restituirle. Grazie.